visto che prima per la playlist abbonati ho preparato cascarilla ho deciso che con le cinque uova che avevo aperto non ci faccio un frittatone da forno quindi cosa faccio sbatto i cinque cuorli insieme ai 5 bianchi aggiungo sale ha spruzzati nei pepe non guasta mai ok Oh detto la siciliana tu masso formaggi cacattugiati almeno 4 cucchiai no 3 3 cucchiai se non pensi a squaglia quando la cuocio 3 cucchiai e sbatto bene togliendo tutti i pallotti che se no mi strociano tutta la frittatona ho preso questa teglia ma è troppo grande allora cambio teglia perché fene è troppo rossa e mi piace rossa meglio questa che è più contenuta finisco di rompere i pallotti finisco di rompere le palle no non finirò mai di rompere le palle di formaggio aggiungo pane gattugiato che dà consistenza nel frattempo tiro fuori la padella dal forno che se no ci do fuoco per errore siccome è già successo non vorrei ripetere l'esperienza tanto accendo il forno mettendolo fisso sui 180 gradi tanto che sarà pronta per stasera ma io la preparo già ora intanto che il forno si scalda così è bello caldo quando ce l'avevo in filo dentro non stavo parlando di una cosa sconcia quando dicevo che ce l'avevo in filo dentro parlavo del frittatone al forno una parte dell'impasto lo stendo qua sulla teglietta ci metto anche un filetto d'olio che aiuta la cottura lo mescolo per bene che l'olio si espanda più o meno su tutta la parte di uovo che ci avevo inserito poi questa non va bene ci metto 1,2,3,4 ci metto fettine di prosciutto cotto stando attento a non rovinare la superficie 2 che riempiono la superficie i cotto che mi fanno da scudo intanto faccio vedere oh andassero male in video di paranormale posso sempre fare cotto e mangiato che poi anche la cucina è un po' magia un po' perché non c'è come l'essere umano che viene preso principalmente dalla gola una, due aprire le sottilette per me è sempre stato un trauma non ci vuole il libretto delle istruzioni oh qua ci metto questa ero anche bella purificata per il rituale di prima quindi solitamente quando mi purifico anche le ricette vengono meglio il mangiare le ricette assorbono tantissimo le vibrazioni che noi abbiamo ho messo le sottilette metto l'ultima fettina di cotte che mi era rimasta e la metto obliqua così per fare estro levo a fursina a forchetta e prendo la cucchiara e butto sopra il resto del colbosto sbatacchiato questo video anche se sembra un video di culinaria ha in realtà un senso ha un senso con le gambe con le mani ha un senso ma quasi quasi te lo dico domani ricopro con il composto per bene per bene tutto il lavoretto fatto sotto in modo che si copra completamente il prosciutto è sottiletta ora questo è l'aspetto a crudo qua sotto ci sono gli strati più tardi quando è cotta vi faccio vedere com'è venuta poi vi faccio vedere com'è mangiata e poi vi spiego perché non è proprio proprio del tutto non inerente alla magia in ogni caso devo fare piano piano perché se scuoto mi si rovina il mezzo metto nel forno e ci vediamo dopo mi illumino d'immenso perché penso a mangiare mi sa che si giusto mentre il marito recupera i danni che ho fatto io prima in cucina e mi odia marito guardami dillo che mi odi lei ha lavato tutto io ho finito per fare la macedonia di kiwi e il frittatone farcito per stasera perché non si butta via niente non si Grazie.